segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te no no allora questa immagine fa molto ridere e ricorda il film di paolo sorrentino peraltro premio oscar la grande bellezza io c'ho sempre sorriso quando l'ho vista la cosa però che fa poco sorridere è la mediocrità grillina che rischia di portarci in un momento di crisi ad essere ancora più in crisi perché la crisi in italia c'è a prescindere dalla politica migrazione carestia siccità crisi energetica guerra pandemia sono tutte cose che non dipendono solo dalla politica internazionale ma che comunque creano alle famiglie un effetto dannoso qual è questo effetto l'inflazione il primo certo costa di più vivere e se uno alla fine prende mille euro alla fine del mese ci arriva pulito pulito se gli aumenti il costo della vita del 9 per cento dell'otto per cento semplicemente se gli aumenti il pieno ancora o il costo della bolletta gente non ce la fa più allora a fronte di questo noi stiamo facendo lo ha ricordato lei un grande sforzo in queste ore per chiedere a tutti ai cittadini di firmare la petizione per mantenere draghi di andare in piazza da torino a milano da trento a roma a firenze alle 18 e 30 per chiedere draghi vada avanti non per un fatto politico del partito di quell'altro ma perché senza draghi i problemi di cui parlavamo prima esplodono senatore è stato draghi a dire io non governo senza i cinque stelle ha peccato di superbia secondo lei ha peccato di protervia no ha pensato di avere a che fare con delle persone equilibrate ma come dire conte non è equilibrato io dico sempre che draghi è uno statista che pensa al paese conte è uno stagista che pensa ai grillini conte pensa che facendo tutto questo caos alla fine cinque stelle recuperano nei sondaggi perché sta gente è malata per i sondaggi è affezionata solo ai sondaggi pensa dalla mattina alla sera esclusivamente ai sondaggi non capendo e io ne sono una testimonianza che si fa politica con le idee certo non con i sondaggi poi arriva il momento delle elezioni e si cerca di prendere il consenso ma valgono le elezioni non i sondaggi quotidiani